Ciao a tutti e benvenuti in questo upper body workout. Iniziamo con un riscaldamento facendo un mini circuito di quattro esercizi. Plank to bike, plank to bike, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ora dieci commando. Uno, due, tre, quattro, cinque, salendo sempre con lo stesso braccio, ora cambio braccio. Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, shoulder touch. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sì, e ora trenta secondi plank. Non conto. Ripeto questo circuito di riscaldamento altre due volte. Ok, dopo un riscaldamento che mi ha distrutto le spalle, iniziamo con i working set. Yes, quindi, inizio con i renegade row, che non sono sicurissima si chiamino così, ma adesso vi faccio vedere, più un rematore. Quindi, renegade row. Allora, si parte da una posizione di plank. Il manubre deve essere accanto al corpo, non è qua davanti, è qui a lato, perché per beccare il dorsale deve essere a metà del busto, ok? Quindi, con questo braccio mi reggo e mi reggo con l'addome. Il pavimento è questo. Ok, non c'è bisogno di appoggiarlo, potete farmi dieci uno di fila l'altro. Il braccio sale parallelo al corpo ed è perpendicolare al pavimento. Non si apre il gomito, perché si deve andare a lavorare questa parte del dorso. Quando siete in punta, tenete un secondo, due, la posizione e poi rilasciate. Non c'è un ampio range of movement, ROM, perché il pavimento è troppo vicino. Quindi, non c'è l'allungamento del braccio, quello che si avrebbe, ad esempio, su una panca. Il movimento è molto limitato a soltanto questo, ok? È un altro modo, un modo alternativo, un modo diverso per allenare questa parte del corpo. Io allargo un pochino di più le gambe rispetto alla posizione normale di plank per tenere di più l'equilibrio e coinvolgere maggiormente l'addome. Se non cado giù nell'erba. Quando eseguite questo esercizio è come se ci fosse un filo che vi tira su dal gomito. ho fatto una bollicina e vi porto il braccio indietro. Quindi, dieci da una parte e dieci dall'altra. Mi raccomando, rimanete in plank e non giratevi perché questa è un po' la tendenza. E poi questo in super serie con il rematore che io faccio grazie a un manico di scopa, gentilmente offerto da Jimmy, ma potete chiedere alle vostre mamme. e una cassa dell'acqua. Queste sono sei bottiglie da due litri, quindi fanno dodici. Non è pesantissimo, però è meglio di nulla. Faccio un rematore a 90 gradi, quindi... Io sono piegata a 90 gradi, quindi ho la schiena parallela al pavimento, gambe leggermente divaricate e il movimento è questo, tiro indietro. Quindi i gomiti sono sempre accanto al corpo, sto buttando fuori in petto, comunque però mantenendo la schiena dritta, per sentire stringere qui in mezzo. come se avessi la solita nocciolina, tengo la posizione almeno due secondi e rilascio. Di questa super serie faccio tre giri, quindi me ne mancano due. Adesso cambio il peso del manubrio, questo è un manubrio regolabile, quindi... Due chili. Ok, allora, seconda super serie sono push-up e spinte frontali. Yes. Quindi push-up, se avete seguito i miei video della quarantena ormai li saprete fare benissimo, ma per chi se li è persi, push-up si parte da stesi per terra, mano accanto al seno, leggermente sotto al livello del capezzolo, leggermente aperte. Il push-up si fa partendo da qui e ritornando qui. Guardo in avanti, prendo il respiro, mi spingo su, salgo tutto un blocco, non salgono prima le spalle, poi salgo la schiena e le gambe, salgo tutto insieme e scendo. Lo rifaccio. Questo è un push-up completo. Se non riuscite a farlo, perché magari fate questo, non lo fate, fate salire soltanto il busto, tenendo le ginocchia e i piedi attaccati a terra. Quando fate il push-up è come se ci fosse un movimento di risucchio, dove l'addome si contrae e il movimento è tipo come se stesse andando indietro. Spesso, troppo spesso, vedo il push-up fatto così, o peggio ancora, con le braccia aperte così. Cioè è proprio la posizione inversa, quindi l'addome torna indietro, va bene le braccia non sono così ma sono qui. Se avete questo problema, provate prima di fare il push-up a stringere l'addome e curvare la schiena. Cioè guardate, tolgo il braccio, guardate la differenza tra partire così, tirarsi su, quindi l'addome non è contratto, e stringere prima l'addome, quindi vedete come già ho leggermente incurvato, e poi da qui tirarmi su, senza ovviamente sculare. Quindi provate a, stringo l'addome, la schiena mi si è raddrizzata, e spingo su. Secondo me questo vi può essere d'aiuto, fatemelo sapere se lo fate. Comunque farò 10 push-up e 10 spinte frontali. Le spinte frontali le faccio con il manubrio da seduta. E porto il manubrio sopra la testa. Per me questo è un movimento molto difficile perché io ho i legamenti molto lassi, soprattutto le spalle. Per me fare movimenti di questo genere con le spalle che mi ritrovo sono molto difficoltosi e ho bisogno di esercitare molto controllo perché rischio che nel momento in cui sono su la spalla mi ceda e il peso mi cada addosso. Mi è successo? Non è bellissimo. Quindi devo stare molto attenta e tenere pesi relativamente bassi. Comunque, quindi adesso 10 push-up di cui quanti ne riesco a fare completi. Se vedo che sto perdendo la forma metto le ginocchia e li faccio a metà. E 10 spinte frontali. Prima giro insieme, gli altri due perché sono tre da soli. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sto perdendo la forma quindi. Sette. Otto. Nove. Dieci. E ora dieci. 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 Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Cinque. Ok. Un paio di minuti di pausa. Fate altri due giri e ci vediamo per la prossima super serie. Ok. Quindi. Iniziamo con la terza super serie. Bicipiti e tricipiti. Oggi facciamo, vediamo, 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 vediamo. Allora i tricipiti li potremmo fare lì. I bicipiti, facciamoli come sempre, non stiamo a spaccarci le balle. Quindi, bicipiti con il manubrio. E tricipiti, ora faccio vedere, i bicipiti as usual. Quindi, bicipiti, biceps curl, col manubrio. Semplicemente questo movimento. Mi raccomando, la spalla, non portatela avanti. Il movimento è da steso, piegato. Potete piegare leggermente, ma in questa parte qui non c'è nessuna contrazione del muscolo. Perché il muscolo lavora da disteso a contratto. Il momento di massima contrazione, qui, non ce l'ho. Perché non c'è nessuna contrazione. Quindi, dieci bicep curls. Curls. Yes. Da qua. Ok. E tricipiti oggi li facciamo contro... Allora, io li faccio contro la pianta, ma voi potete farli utilizzando una sedia. Arrivo. Allungo i piedi davanti a me, ma potete anche piegare le gambe. Dipende da quanto sono allenati i vostri tricipiti. In movimento è questo. I gomiti vanno indietro, il corpo scende. L'angolo che si va a creare è un angolo di 90 gradi, ma è dietro. Vedete che non sono aperte le braccia. I gomiti... Questo fa tantissima differenza. I gomiti non puntano all'esterno, ma chiudono dietro. Quindi, da qua. Questa è l'altra super serie. Altri due giri. E abbiamo finito i working sets. Yes. Ok. Quindi, working sets finiti. C'è la parte di allenamento che prevede peso aggiuntivo rispetto al proprio corpo. Adesso finisco con un mini circuitino finale killer, breve, perché sinceramente sono stanca. Io dedico all'allenamento upper body un giorno della settimana, però gli altri giorni faccio cose. Ad esempio, i flow, ad esempio le prove di verticali e cose a muro, eccetera, che coinvolgono tanto le spalle. E praticamente io le ho sempre doloranti, a prescindere dall'allenamento specifico che faccio un giorno della settimana. Quindi, sono abbastanza stanca, quindi voglio fare questo circuitino finale e andare a mangiare, essenzialmente. Quindi, circuitino finale composto da tre esercizi a corpo libero, molto simile a quello del warm up. È uguale, praticamente cambiano un pochino gli esercizi e gli esercizi sono body touch. È così. Una mano alla cabeza, una mano alla spallina, una mano alla cintura, una mano alle caviglie. Olè. Questo è uno. Quindi, due. Un po' tre. Quattro. Un sbagliato. No. Cinque. Cambiate braccio con cui iniziate e vi manderà il palla alla testa perché vi abituate a farlo solo con una mano fa un casino. Un sbagliato. Ok. Penso di averne fatte otto e se non li ho fatti otto li ho fatti. Ok. Già pochettette se poi decido neanche di uscire. Quindi, body touch fatto. Plank moving forward. Basta plank. Ho le spalle in fiamme. Quindi, plank moving forward. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cambio braccio. Uno, due, tre, quattro, cinque. Mi raccomando, rimanere sempre in plank. Vedete che io rimango sempre bene o male, bassa. Mi muovo un pochino dall'astra e sinistra, ma perché il mio addome non è abbastanza forte. Però, non salgo su. Cioè, non faccio... Non spancio quando vado in avanti e non salgo su. Mi raccomando, sempre in plank. Ok. Questo circuito sarà composto da due esercizi. Questi due. Non ho voglia di fare il terzo, sono stanca. Adesso li rifacerò... Eh, sì. Adesso li ripeterò altre due volte. Poi basta. Basta. Ho le spalle distrutte. Quindi, io chiuderei qui questo video. Spero che questo workout vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere se il format vi piace. Cosa vorreste di diverso. Se vorreste che facessi tutto l'allenamento, i 45 minuti insieme a voi. Se magari volete soltanto la spiegazione all'inizio e poi fate quello che volete. Fatemelo sapere anche in base alle vostre esperienze. Non ditemi, sì, fa un workout di 45 minuti. Poi quando ve lo pubblico, ah, ma troppo lungo e noioso. Ragazzi, aiutatemi. Vi chiedo aiuto. E basta. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato un mio piacere, iscrivetevi al canale. Nel momento. Noi... Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Mi farebbe piacere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Noi ci vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ok, ora che ho strecciato anche un pochino la schiena. Cosa che mi avete chiesto di condividere di più con voi, le mie cose di stretching. Prometto che lo farò. Sto pensando al format perché può essere noioso. Quindi ci penso un attimo e ritornerò da voi con un po' di stretching. Ok, ora vado via. Veramente. Ciao, 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 ciao. Grazie.